iniziamo oggi portando queste misure da questo punto ci sposteremo di un ottavo taglia pari a 6 centimetri nel mio caso riduco anche un pochino perché non avendo molto seno la profondità della pensa è anche più stretta altrimenti per un seno un po più importante dovremmo portare un sesto taglia la lunghezza della vita dietro è sempre più corta del davanti ognuno si misurerà le proprie perché se non è necessario l'abbassamento si evita di farlo secondo proprio le misure personali mi abbasso gli altri due centimetri e misuro un sesto taglia di 8 centimetri per la scollatura misuro la metà ampiezza spalle di 19 centimetri porto giù la perpendicolare e porto la misura di un metà taglia più 3 centimetri come per il davanti 27 metà taglia più 3 centimetri mi alzo di tre e mezzo da questo punto b qui abbiamo a grazie a tutti grazie a tutti